Ciao ragazzi, oggi sono in compagnia di un rosato, un rosè in francese e vi porto appunto in Francia nella Valle del Rodano meridionale. La Valle del Rodano si chiama così dall'omonimo fiume, il Rodano che nasce dalle Alpi Svizzere e poi sfocia nel Mediterraneo all'altezza di Marsiglia. Diciamo che la Valle del Rodano è conosciuta principalmente per vini rossi. Io invece vi presento un rosato perché siamo in estate e quindi ho pensato a qualcosa di fresco, di 70, di non troppo impegnativo. Questo qui in particolare è un rosato a base di Grenache al 70% e Sirà al 30%. Dovete sapere che in questa zona c'è un quantitativo molto alto di numero di vitigni e anche di vigneti, sia a bacca bianca che a bacca rossa. Il Grenache soprattutto viene coltivato al 65% in questa zona, quindi è il vitigno principale, ma non il vitigno principe. Il vitigno principe è Sirà che invece viene coltivato al solo il 17%, quindi una percentuale molto più bassa, ma è il vitigno che è bandiera di questa zona. Grazie a Sirà sono riusciti a far conoscere la regione della Valle del Rodano anche in tutto il mondo, riuscendo a mettere i vini in competizione con delle regioni molto più conosciute e potenti come il Bordeaux e la Borgogna. Ma oggi vi parlo di questo rosato, lo assaggiamo insieme, ha un colore molto tenue, un rosa tenue con qualche riflesso color pesca. I profumi sono molto estivi nel senso che riprende, adesso è venuta fuori una macchia mediterranea, ma principalmente abbiamo un po' in pelmo rosa, quindi l'agrumato. Ci sono delle note di piccola frutta rossa, mi viene in mente il melograno, la cipria, qualcosa di minerale come il gesso e in più la macchia mediterranea. Perché si è scaldato un po' e quindi è venuto fuori anche questi profumi più di erbe aromatiche. Lo assaggiamo. Questo vino si caratterizza sicuramente per una forte freschezza e questo impatto fresco, agrumato, che è il fil rouge. Dall'inizio alla fine c'è questa bella nota di freschezza, io consiglio di servirlo a una temperatura abbastanza bassa, perché appunto è un vino molto adatto come aperitivo. Cioè non è uno di quei vini che con un paio di gradi in più lo si può abbinare con qualcosa di più strutturato. No, questo qui secondo me va bevuto proprio fresco come aperitivo oppure abbinato a qualche tartare, pesce crudo. Sta molto bene secondo me con il salmone, magari non affumicato ma a crudo. E poi possiamo sbizzarrirci con focacce. Non so, abbiamo un aperitivo con delle tapas, delle focacce, con dei formaggi freschi. Sta molto bene. Riesce a pulire bene anche il grasso. Quindi anche un semplice aperitivo con qualcosa di più unto va molto bene perché va a pulire e lascia la bocca libera. Cioè sgrassa molto bene, quasi come una bollicina. Non ha lo stesso effetto naturalmente, però ha anche un alcol non troppo basso perché abbiamo 13 gradi e mezzo, che si inserisce perfettamente all'interno con gli altri elementi, non fuoriesce. Però sicuramente abbiamo bisogno della giusta temperatura di servizio. Quindi andrei intorno agli 8-10 gradi. Freschissimo, pulito, verticale, agrumato. Riprende, il naso è delicato, è un naso fresco, estivo. Non troppo complesso, molto preciso. E il sorso rispecchia perfettamente quello che sentiamo al naso. Qui siamo in un'azienda che è fondata nel 1967. È un'azienda familiare, non è una cooperativa. Perché qui molto spesso nella zona meridionale ci sono delle grandissime tenute, molto spesso anche cooperative appunto. Qui invece è un'azienda di famiglia. si chiama Domaine de la Jeunesse. È un 2019. Ed è un Principal Durange. Qui non fa parte della... È un vin de paix. Non fa parte della denominazione, come può essere in questa zona. E loro hanno anche vini della zona proprio di Chateauneuf-du-Pape, dove diciamo che è riconosciuta soprattutto per gli uvaggi, fino a 14 vitigni possono essere utilizzati per fare un Chateauneuf-du-Pape, che è principalmente un vino rosso, dove però è possibile utilizzare anche vitigni a bacca bianca. Questo qui non è neanche l'altra denominazione che è la Côte d'Uron, dove abbiamo anche gli altri vini che possono essere sia bianchi, che rosati, che rossi. Questo è un vin de paix. Quindi non è un vino da tavola, che è la categoria più bassa. Non è la denominazione, non fa parte della denominazione. È quello che sta in mezzo, quindi un vino comunque dove vengono fatti dei controlli, di una giusta qualità, però non fa parte della denominazione. Appunto questo qui, sono i vini de paix, fanno parte anche ai vini bianchi, rossi e rosati. E questo qua, come ho detto prima, è un Grenat et Syrah, quindi è l'espressione della frutta e della freschezza, è un'unità anche una buona struttura, una giusta alcolicità e una buona persistenza. Spero di avervi dato tutte le informazioni. Noi ci vediamo la prossima settimana con una birra. Io vi aspetto. Cin cin. E alla prossima.